E una buona domenica cari amici, ben ritrovati in nostra compagnia, io sono Marco Iacoviello di Oggi Trading, come ogni domenica andiamo a fare il punto della situazione sui principali asset finanziari, ma partiamo subito con il celebrare questa bellissima intervista a Class CNBC, soprattutto in un luogo davvero speciale per tutti i trader, credo a livello mondiale, perché siamo all'interno tra le mura del New York Stock Exchange, quindi la borsa americana dove avvengono tutte le transazioni più importanti a livello planetario, quindi volevo solo farvi vedere questa bellissima intervista, vi metterò il link qui sotto per seguirla tutta, è davvero stata una settimana incredibile per noi di Oggi Trading. Come vedete qua in questa foto siamo presenti entrambi, io e Matteo, Talarico, ed è una bellissima veramente esperienza fatta questa settimana dove abbiamo scoperto veramente molti segreti che avvengono tra trader, broker e istituzioni più importanti che muovono i mercati finanziari. Quindi grande esperienza, oggi volevo partire un po' così, un'analisi direi molto speciale. Però torniamo a noi, visto che questa è l'analisi dei mercati, vi condivido subito i grafici per andare a vedere un po' la situazione sui vari asset finanziari. Partiamo dal gold, come sempre buonissime aree di resistenza si stanno realizzando sul gold, che il mercato sta sentendo in queste ultime settimane con un bellissimo rialzo. Nella giornata di venerdì c'è stato un piccolo calo, ha sentito l'area dei 1794, ma la price action a livello di breve sembra essere ancora rialzista, soprattutto fino alla tenuta di area 1734-1710. Solo al di sotto di queste due aree il trend tornerebbe a ribasso in maniera, secondo noi, abbastanza importante perché il mercato andrebbe a rompere dei supporti chiave, soprattutto su grafici settimanali. Quindi il trend ancora non ha girato ufficialmente, a nostro avviso, a rialzo. Questo è un bello storno, un bel recupero, però a livello di breve il trend rimane rialzista. Quindi fino alla tenuta di 1734 possiamo vedere nuovi attacchi su aree di 1794 e più alta la resistenza di 1831 che vi segnalo qua con questa bella X. Quindi questo per quanto riguarda il gold, naturalmente l'attenzione più grande sul gold è sempre la volatilità perché nel mese di agosto ci ha regalato per diverse volte di fila, diversi anni, grossi shock, nel senso grossi movimenti importanti e improvvisi. Quindi attenzione a rimanere troppo tempo magari in posizione sul gold, non farei del multiday ma solo scalping intraday. Andiamo a vedere un po' l'euro-dollaro. Euro-dollaro cosa è successo? Siamo sempre lì tra i livelli di ormai due o tre settimane che vi ho fatto vedere. L'area di 102.90 continua a fare da resistenza, è molto importante. Tra l'altro per chi ha fatto il nostro corso si è realizzata nella giornata del 2 agosto un bellissimo trade short con pochissimo rischio. È veramente stato molto interessante secondo me vedere questo trade e fare una bellissima operazione multiday. Quindi per chi ha poco tempo da stare magari davanti ai grafici, fare una bella operazione del genere non era per niente male. Siamo rimasti anche nei supporti di 1.01.06, 1.01.10. Il mercato non si muove da qua, rimane in questa fase laterale. C'è da dire però che con i dati macro usciti questa settimana assolutamente da record per l'America con una disoccupazione con una disoccupazione in calo e addirittura delle buste paga raddoppiate rispetto a quanto si aspettava e soprattutto i posti di lavoro recuperati dalla pandemia, dai livelli prepandemici, è davvero incredibile quello che sta vivendo l'America. Noi siamo qua da New York, dall'America. Abbiamo visto anche toccato un po' con mano in queste due settimane che siamo venuti qui e vediamo proprio un paese comunque a livello economico che sta tirando molto, sia a livello salariale, parlando con alcuni dipendenti, ma anche a livello imprenditoriale. Sembra esserci veramente una bella carica. Quindi i dati possiamo dire che potrebbero essere ancora molto forti. Tra l'altro questa settimana nelle giornate di mercoledì ci saranno gli indici principali dei prezzi al consumo e diversi dati sulla disoccupazione e quindi sarà molto interessante sull'America ancora tenere sotto controllo questi dati. Quindi per quanto riguarda Euro-Dollaro diciamo che adesso è in una fase laterale, il trend macro è sempre a ribasso perché il dollaro è sempre superstar assoluta dei mercati e vedremo un po' quello che andrà a succedere. Siamo su delle resistenze importanti quando arriviamo sempre nell'area di 0,290 e 0,360. Solo una rottura di 0,360 potrebbe farci accelerare sopra 0,486 e solo rotture sotto di 1,01 ci portano ancora in forte settore ribassista dove la parità ancora potrebbe essere ritoccata. Quindi attenzione a Euro-Dollaro. Andiamo sul DAX, vi ricordo la nostra intervista a classe CNBC, vi metto il link qui sotto per vederla, è davvero speciale quello che abbiamo realizzato in questa settimana visto che eravamo all'interno del New York Stock Exchange e quindi andatevela a rivedere perché è veramente molto molto bella. Link qui sotto. Parliamo di DAX, trend di breve che continua a essere positivo come dicevamo settimana scorsa, la tenuta di 13.300 continua a essere molto importante perché spinge le quotazioni sempre a rialzo, siamo arrivati su dei target importanti, il mercato ha chiuso il gap preciso a 13.805 che si era realizzato a giugno e quindi adesso vedremo se il mercato avrà ancora forza di accelerare verso la nuova resistenza sempre a 13.805 e poi 14.000. Vedremo un po' quello che succederà. Quindi nel breve finché il mercato tiene l'area dei 13.000 mi avviso possiamo ancora vedere delle botte al rialzo. Solo invece delle discese al di sotto di 13.025 farebbe tornare il mercato in un mercato ribassista e quindi confermare il trend di medio che rimane ancora ribassista nonostante queste belle salite che possiamo vedere anche da un grafico settimanale dove il mercato ha corretto parecchio. Però non basta per vedere il trend tornare al rialzo, dobbiamo vedere aree decisamente più alte. Questo per quanto riguarda il DAX. Andiamo a vedere il Nasdaq, sempre molto interessante e volatilità incredibile, estrema sempre. Per quanto riguarda il DAX e le borse americane, vediamo un po' il Nasdaq, quindi i livelli a 13.000 di supporto, 12.652, 12.406. Qua il discorso è molto simile. A mio avviso finché teniamo i 12.406 possiamo ancora vedere un Nasdaq che vada su e attacchi delle resistenze importanti come 13.380, 13.700 e 13.980. Solo la rottura di 12.406 a mio avviso potrebbe far ritornare il prezzo il Nasdaq in una situazione ribassista. Quindi attenzione a questo livello qua perché a mio avviso rimane cruciale. Nel breve invece il trend rimane comunque positivo e a rialzo. Nel lungo stesso discorso del DAX è un bel recupero, però per vedere un trend che cambia di nuovo a rialzo con tutta la situazione macro che stiamo vivendo, dobbiamo vedere qualcosa di più. Noi sappiamo che i mercati sono sempre pronti a stupirci, però bisogna anche poi analizzare un minimo di analisi fondamentale giusto per capire un po' dove ci troviamo. S&P 500, bellissimo ancora il recupero, sta allungando veramente forte in queste ultime settimane. Vediamo, siamo su un grafico qua settimanale, come potete vedere 4204 rimane una resistenza molto importante perché divide un po' tutto quello che è successo nei mesi scorsi con i forti ribassi che abbiamo avuto e anche a livello di opzioni scopriamo che qua in questa area c'è un livello veramente importante. Quindi il superamento eventuale di 4204 potrebbe far scaturire ancora un bel rally fino a 4306 e forse 4510 anche se sembra abbastanza distante in questo momento. Quindi nel breve tenuta di 3946 ci fa ancora scattare sempre delle posizioni rialziste, un ribasso sopra 3946 ci porterebbe secondo me ancora in territorio ribassista e andrebbe confermare ancora il trend di medio che rimane ancora ribassista. Andremo a vedere un po', andiamo a vedere un po' di Forex giusto per chiudere queste analisi. Sterlina che rimane bloccata su questi livelli, tra l'altro come Eurodollaro, bellissima operazione che poteva essere fatta anche sulla sterlina su un grafico settimanale e supporti a 1980-1880, la situazione rimane comunque ribassista e l'analisi è uguale praticamente Eurodollaro, solo un superamento sopra 2358 potrebbe farci accelerare un po'. Interessante quello che ha fatto il presidente della banca centrale inglese con delle dichiarazioni abbastanza diciamo non scioccanti ma molto veritiere, cosa che magari non siamo abituati a sentire dicendo che comunque l'inflazione potrebbe arrivare al picco verso ottobre e poi una forte una una recessione nel 2023 e da un banchiere centrale non ti aspetti sicuramente delle parole del genere e il mercato comunque ha sentito per quanto riguarda la sterlina queste parole con una bella discesa del del cable. Quindi vedremo un po' quello che succederà e trend rimane comunque a ribasso e se dovessimo superare i 18-80 la pressione a ribasso potrebbe continuare. Chiudiamo con Dollaro Canada e poi il MIB. Dollaro Canada è sempre qui, bello il supporto a 2769 anche qui con le nostre strategie c'era un bellissimo trade da fare per chi ama un po' fare il forex e avere un battito cardiaco un pochino più basso visto che è un po' più tranquillo. Siamo su un territorio adesso di resistenza 2986 vedremo se avrà un po' di forza per accelerare il rialzo ma come vi dico da diverse settimane qua la situazione è molto chiara nel senso che è un trading range molto esteso tra 1,25 e 1,32 non si muove da qui. Dollaro Canada 2760 è il livello intermedio di mezzo finché rimane sopra 2760 il trend rimane più tendente al rialzo, un laterale rialzista al di sotto è un laterale ribassista. Quindi questo per quanto riguarda Dollaro Canada. Chiudiamo con il MIB. MIB che è in un territorio abbastanza positivo in queste ultime settimane cerca di recuperare. La cosa che preoccupa sul MIB è che ci sono diverse uscite importanti dall'indice. Si parla di TOTS, si parla di altri titoli che vorrebbero uscire e quindi non è una situazione molto carina per il nostro indice che va a confermare quello che abbiamo detto settimana scorsa che contiamo sempre di meno a livello mondiale. Quindi vedremo un po' quello che succederà anche sul MIB. Nel brevissimo la situazione rimane abbastanza rialzista fino alla tenuta di 21.285, solo al di sotto di 21.285 tornerebbe la pressione ribassista e secondo me tornerebbe il MIB ad essere attaccato verso nuovi minimi. Resistenze invece a 23.100, 23.780. Questo è tutto, io vi saluto, tutto il team vi augura una buona domenica e un buon mese di agosto visto che siamo veramente vicini al ferragosto. Quindi vi auguro un buon proseguimento di magari vacanze di relax e ci vediamo domenica prossima. Un abbraccio!